Ebbè ragazzi devo dire che mi era mancato troppo andare sui campi Benvenuti e bentornati sul canale SuperAllan, siamo qui oggi con un nuovo video Oggi ragazzi la prima reaction dallo stadio e che stadio adesso vi dico tutto di questa stagione Sì perché il Napoli per adesso non sono riuscito a vederlo ancora allo stadio Maradona Ma ci andrò e vi avviserò su Instagram e sugli altri social quando ci sarò Quindi seguitemi sugli altri social Ragazzi oggi seguirò il Napoli primavera Youth League esordio del Napoli primavera di Frustalupi contro il Liverpool Visto che poi stasera ci sarà il big match al Maradona sempre con Liverpool di Klopp Però quindi ragazzi io vi chiedo veramente massimo supporto per questa reaction Un bel mi piace, un bel commento, soprattutto iscrivetevi al canale e cercherò di portarvi sempre più video Tra l'altro ragazzi quest'anno so che ci sono dei nuovi innesti ovviamente nella primavera Sono sincero non ho seguito bene 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 la primavera fino a questo momento Ovviamente adesso ci rifacciamo, partiamo e ripartiamo da questa partita In casa stadio di Cercola con Liverpool prima della Youth League E speriamo bene, dai andiamo dentro con lo stadio Prima di entrare però volevo essere con voi molto sincero Mi farebbe piacere appunto sapere cosa ne pensate di questa serie, chiamiamola così Di partite allo stadio, almeno quella in casa del Napoli primavera Nel senso fatemi sapere e soprattutto dimostratemi che siete interessati a questo tipo di contenuto Mi piace, vi dico la verità, seguire la primavera Però fatemi sapere se appunto piace anche a voi Questa partita è alto livello, pure il biglietto Comunque ingresso gratuito per chi me lo chiederà E niente, andiamo dentro Ciao 13, Benedetto Barba Dai, 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 dai Io però Puoi fatti recuperare quando non eri giù? No, no, no No, no No, no No, no No, no Eh Mamma mia Mamma mia Oh Mamma mia Mamma mia Un' Amma mia Un' 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 Maglio niente, perdiamo 1-0, fanno il cazzo che vogliono appena arrivano in area di rigore nostra una grande parata del nostro portiere ha anche negato un altro gol e noi non abbiamo praticamente mai costruito nessuna azione buona da gol non l'abbiamo mai tirato almeno da quello che ricordo nessuna emozione sotto porta del Liverpool il 14 che è entrato a noi sulla fascia praticamente un di Lorenzenost mi piace molto di spinta mi piace ci vediamo bene nel secondo tempo Maglio dai 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 wow, non fanno 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 un giocatore semplicemente son tu 2 tiri bene così secondo me se non è buono aiutaccio di rigore adesso parte la curva adesso speriamo andiamo cambucco vai ragazzi vai bagnambaci ma io nel secondo tempo sono venuto qualcuno vicino a me si è andato un lavoro ma io sono entrati con un altro video un'altra mentalità più determinate andiamo a cercare adesso siamo qua a fine lavaggio beh ma l'amico è morto ma hanno fatto le torelle su tutte le porte si venivano solo loro dove è uno lì? un lì di H o no? no ma a parte questo senza hanno fatto le torelle si venivano solo loro due a uno ma sta panchina è merda non mi farei niente nooo nooo ma non ci stiamo in sciù non ci credo ma che è fuori ma sulla linea l'hanno salvata ma vuole il portiere ha fatto una paratura non puoi buttarla qui dall'altra ma sul portiere no no cioè nel senso non lo sapesse un amico che non lo sapesse ma io non mi arriva più a lì mamma mia 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 finita aiu finisce due a uno la prima di youth league per il Liverpool e niente ci vediamo alla prossima in casa del Napoli primavera, ci vediamo bene i tre punti vanno a Liverpool però ci vediamo bene per stasera dai sempre forza Napoli